Buongiorno, siamo nella concessionaria BMW Mini Ilario Bergauto e voglio illustrarvi i vantaggi delle nostre BMW a chilometri zero. Tutte le nostre vetture sono disponibili per un'immediata consegna. Tutte le nostre vetture a chilometri zero hanno una ricca dotazione di accessori tra i più richiesti sul mercato. Le nostre vetture a chilometri zero hanno la stessa garanzia delle automobili nuove. Vetture completamente allestite che facilitano una scelta immediata. Inoltre, dall'Aerio Bergauto, molteplici possibilità di finanziamento su ogni vettura. Questo tipo di vetture prevede un forte sconto sul listino. Le nostre vetture a chilometri zero le trovate presso le sedi L'Aerio Bergauto di Berbeno-Valtellina, Lecco Bergamo e Grumello del Monte o sul sito mobility.it aggiornate in tempo reale. Le chilometri zero L'Aerio Bergauto sono anche Mini. Grazie. Grazie.